Nella strada, come era fatto quest'animale? Quest'animale era fatto un gattone, un grosso gattone, aveva dei peli in cima agli orecchi, il manto non era unito, era preschiolato, la coda così e niente. Quindi comunque non era secondo lei un gatto? No, no, nel modo più assoluto. Quello che avete appena ascoltato è un estratto di una delle tante interviste raccolte nel corso degli anni lungo l'arco appenninico assieme all'amico Luigi Ricci, quando bagliavamo assieme informazioni riguardanti la presenza di un animale che in quei luoghi non avrebbe dovuto essere presente. Se volete saperne di più, cominciamo, e se volete anche scoprire cosa significa brischiolata, guardate il video fino alla fine. In Europa esistono due specie di lince, quella eurasiatica che come nome lascia intuire è diffusa su di un vastissimo areale dalla parte centro-settentrionale dell'Europa a quella centro-orientale dell'Asia e quella perdina che sopravvive con un esiguo numero di esemplari stimato a poco più di 150 individui maturi in alcune zone meridionali della Spagna. Per quanto concerne l'Italia, i dati naturalistici dimostrano che la specie eurasiatica era presente sulle Alpi con una popolazione autoctona fino ai primi decenni del 1900, mentre per l'Appennino il record paleontologico a nostra disposizione si ferma circa 3.000 anni fa, durante la fine dell'età del bronzo, con resti associati a insediamenti umani in aria abruzzese presso Trasacco e nelle paludi del Celano. Ufficialmente, quindi, la lince non è stata mai presente in Appennino in epoca storica. E questo è un dettaglio molto importante, perché nel 1971, all'interno di una pubblicazione scientifica per i lavori della Società Italiana di Biogeografia, con il titolo La lince nell'Appennino centrale, l'allora direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Franco Tassi, citava una ricca bibliografia relativa alla possibile presenza dell'animale sino alla fine del XIX secolo. Nel suo lavoro, Tassi scriveva che In effetti, dovendo prendere alla lettera la documentazione storica disponibile, sembrano esserci ben pochi dubbi circa questa interpretazione. Elencare tutti i riferimenti sarebbe un'operazione impossibile in questa sede per motivi di tempo, e mi limiterò a quelli che ritengo più significativi. La raffigurazione iconografica indiscutibilmente più precisa, realizzata dal vivo con ogni diligenza, risale al 1630 e proviene dal famoso letterato e naturalista Francesco Stelluti, fondatore dell'Accademia dei Lincei, secondo il quale la Lince nasce in India ed Etiopia, con tutto ciò anne ancora la nostra Italia e ne sono stati presi più volti nei nostri monti di Fabriano. Un'altra immagine, abbastanza inconfondibile, è presente in una carta topografica della Marsica, appennini abruzzesi, risalente al 1750 circa. Mostra un animale dal manto maculato e ciuffi di pelo sulla punta delle orecchie, con accanto la citazione Felipardus Propepium, uccisus mense aprile, anni 1735. Gattopardo ucciso a Opi nel mese di aprile del 1735. Secondo Tassi, il fatto che l'evento fosse stato inserito all'interno di una carta topografica starebbe a indicare che già all'epoca doveva trattarsi di un animale tutt'altro che comune e molto poco conosciuto. Anche lo storico della caccia e della pesca Leonardo Dorotea parla della presenza dell'animale in quelle stesse zone nel 1862, descrivendola come fiera dall'acutissima vista, dagli artigli retrattili, dalla pelle folta e indanaiata, dai pannelli alle estremità delle orecchie. Aggiungendo che nel 1818, presso Civitella Alfedena, un cacciatore di nome Lombardoffi ne aveva battuto un esemplare. Ulteriori elementi provengono da Erminio Sipari, fondatore e primo presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, che all'interno di uno studio faunistico pubblicato nel 1926 riportava quanto segue. Che la lince fosse presente nell'Alta Marsica sino al 1860 non ho dubbio alcuno, per la testimonianza di mio padre, provetto cacciatore. Ma anche oggi la lince circola per quei boschi. Francesco Lippa, guardia comunale di Villa Vallelonga, racconta di aver di recente assistito la lotta tra il suo cane e un animale che dai connotati da lui riferiti si ha ragione di ritenere sia davvero una lince. Il Lippa assicura che l'animale era di pelo fulvo e aveva somiglianze con un cane corso con ciuffi di pelo alla punta delle orecchie. Il Sipari aggiungeva anche come in quelle zone le gesta della lince, chiamata lupo cervino, lupo cerviero e lupo cervaro, fossero rimaste impresse nella memoria storica attraverso le favole raccontate ai bambini. Di altra idea era invece lo zoologo Alessandro Ghigi, collaboratore e amico di Sipari, secondo il quale la lince non era mai stata presente in Appennino e ogni presunta segnalazione era in realtà riferita al gatto selvatico. Riferimenti successivi arriveranno soltanto circa 40 anni dopo, quando nel 1968 Alberto Mario Simonetta, professore presso le università di Firenze e Camerino, scrisse che la lince era presumibilmente estinta, riportando una cattura da lui considerata come certa nel 1906 e l'avvistamento di un cacciatore di opi nel 1946. E qui si ferma quella che io considero come una prima fase della saga della lince in Appennino, cioè quella delle informazioni storiche. La seconda fase fu invece alquanto surreale, e parlarne per me non è così facile, sia perché conosco di persona quasi tutti i protagonisti coinvolti, sia perché purtroppo alla questione scientifica si andò ad aggiungere una guerra ideologica tra esseri umani, che alla fine, come spesso accade in questi casi, non portò assolutamente a nulla. Dal 1969 Tassi fu nominato direttore del parco d'Abruzzo, che sotto la sua guida divenne una meta visitatissima e un simbolo della conservazione celebre in tutto il mondo. Forte della convinzione che la lince fosse stata presente nel parco sino a pochi decenni prima, nel 1991 propose un seminario preliminare nel quale discutere la possibile reintroduzione della specie, ma la reazione generale fu di grande perplessità. Due anni più tardi decise così di fondare il gruppo Linci Italia, con lo scopo di indagare la possibilità che nuclei relitti di linci potessero essere ancora sopravvissuti. Furono raccolte segnalazioni e si registrarono presunti ritrovamenti di peli, impronte ed escrementi, ma questi elementi, esposti nel 1995 durante un seminario internazionale sui carnivori, non furono accettati come validi dagli esperti presenti, al punto che Urs Breit & Moser, all'epoca considerato tra i massimi esperti di lince eurasiatica, arrivò a dire che la lince in Italia è un affare losco. Ma sempre più convinto della sua tesi, alla fine del 1999 Tassi decise di dare un incarico ufficiale per la ricerca della lince nel parco a Luc Chazelle, un naturalista francese che tra il 1990 e il 1994 aveva dichiarato di aver raccolto prove sulla sopravvivenza della lince nei Pirenei, dai quali era considerata scomparsa dal 1960 circa. Le sue note furono pubblicate sulla newsletter del Cat Specialist Group dello UCN e al loro interno era possibile apprendere che durante un censimento di mammiferi nelle riserve naturali del massiccio di Madre Corona erano state raccolte segnalazioni e invenute predazioni, impronte ed escrementi per una media di circa 3,69 indici di presenza all'anno. Premetto che Chazelle è un amico che ogni tanto sento ancora e che ha un fine riconoscitore di impronte e tracce di animali selvatici in natura, ma purtroppo l'unica prova relativa ai suoi ritrovamenti è una fotografia che mostra alcune impronte sulla neve riprese da un'angolazione tale da rendere difficile l'esatto riconoscimento e Chazelle, che sulle impronte di animali ha scritto ottimi manuali, sa bene che un'impronta non si fotografa in questo modo. Comunque, per quanto riguarda il Parco Nazionale d'Abruzzo, Chazelle seguì il caso sino al 2002, anno in cui per una serie di sconvolgimenti politici e legali, Tassi fu estromesso dal suo incarico di direttore dell'ente parco. Da quel momento in poi, in base alle due diverse narrazioni disponibili, tutto il materiale raccolto da Chazelle e dal gruppo Lince, tra cui si dice fossero presenti anche campioni di escrementi e un filmato, scomparirono presumibilmente per sempre, mentre secondo l'altra campana queste prove non sarebbero mai esistite. Sembrano comunque esserci prove indipendenti circa la presenza di Lince nell'area del Parco d'Abruzzo in quel periodo e provengono dal compianto Bernardino Ragni, professore di zoologia presso l'Università di Perugia. A metà degli anni 90 inviò una lettera al Centro Studi Ecologici Appenninici in cui informava del fatto che nel 1993 aveva condotto rilievi faunistici in aree campione parzialmente coincidenti con il Parco d'Abruzzo. In data 11 dicembre aveva rinvenuto un escremento attribuibile alla Lince e il giorno dopo delle impronte. L'escremento fu analizzato e autenticato in quanto contenente peli del felino dovute al tipico comportamento di questi animali di leccarsi il manto. La sua ipotesi è che una Lince fosse stata deliberatamente rilasciata o sfuggita nella Marsica. Successivamente nel 2008 pubblicò un articolo nel quale dichiarava di avere rinvenuto 45 indici di presenza della specie in cinque diverse regioni d'Italia Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo dal 1992 al 2008. Questi indici comprendevano soprattutto avvistamenti ma anche impronte, escrementi e predazioni. La sua conclusione è che queste prove erano dovute a rilasci clandestini di Lince e che la specie non era mai stata presente in Appennino nemmeno in epoca storica. Esiste però un grosso problema. Così come è avvenuto per Chazelle anche le prove riportate da Ragni non sono verificabili in nessun modo. L'articolo in cui ne parlava faceva infatti parte degli atti di un convegno di cui lui stesso era membro del comitato scientifico e al suo interno non compare nemmeno una fotografia di presunte orme, escrementi o predazioni. Purtroppo non ho mai avuto modo di parlare con Ragni di questa cosa anche perché all'occasione sarebbe stato un convegno sulla fauna che organizzai a Cesena nel 2016 ma al quale il professore non poteva partecipare per motivi di salute. La sintesi finale comunque è che sia dalla parte di chi dice che la Lince è ancora presente sia da quella di chi dice che è stata rilasciata clandestinamente le prove stanno a zero. Gli unici che dichiararono di averle raccolte non dimostrano mai la loro esistenza. Ma la saga della Lince appenninica ha avuto anche una terza fase che continua ancora oggi. Tassi infatti propose che visto che le descrizioni del passato sembravano indicare un animale più piccolo e più maculato della Lince euroasiatica in Italia fosse presente una popolazione relitta di una sottospecie ancora non classificata dalla scienza per la quale propose il nome di Lince-Lince appennina. Ma da quel momento fino ad oggi nonostante non passi anno senza qualche sporadica segnalazione di avvistamento di Lince da qualche parte in appennino la situazione non si è spostata di una virgola. Tante parole ma verofatti. Non posso poi non segnalare l'episodio più surreale in assoluto. Era il mese di maggio del 2013 quando il sito dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale per gli amici ISPRA pubblicò una notizia successivamente rimossa dal roboante titolo per la prima volta fotografato una Lince in appennino. In esso era possibile leggere che l'esemplare, un individuo adulto è stato fotografato il 19 aprile 2013 poco dopo le 19 nel territorio dell'azienda faunistico-benatoria Sasseto-Mortano in comune di Santa Sofia. Le foto sono state scattate al margine di una vecchia carrareccia in un'area del medio appennino forlivese caratterizzata da fasce boscose calanchici e spugliati pascoli e campi coltivati ricca di ungulati, caprioli, daini, cervi e cinghiali lepri, fagiani e pernici rosse tutti animali che rientrano nello spettro alimentare di questo predatore La presenza della Lince in questa regione deriva con tutta probabilità da esemplari rilasciati in natura dall'uomo in anni recenti Anche l'immigrazione dall'area alpina dove attualmente vivono pochissimi esemplari appare, se poco probabile, per ragioni geografico-ambientali e demografiche Qui apre una parentesi al volo i pochi esemplari che vivono attualmente nelle Alpi non fanno parte della popolazione originaria ma sono arrivati da paesi confinanti come ad esempio la Slovenia Comunque la notizia pubblicata da Ispra scatenò ben presto il solito carosello di cui riporto solo il sunto dei fatti senza fare i nomi di nessuno I vari forum e mailing list naturalisti che divennero teatro di un botte risposta tra chi affermava testualmente che si trattava sicuramente di un esemplare obeso da cattività e chi assicurava invece di aver intervistato personalmente l'autore delle fotografie confermandone senza ombra di dubbio la loro provenienza penninica Io più leggevo e più restavo allibito perché senza bisogno di chissà quali deduzioni né di essere chissà qual esperto in materia dalla fotografia erano molto evidenti due cose La prima è che la lince in questione era una lince pardina e non una lince eurasiatica La seconda è che la zona circostante l'animale non poteva trovarsi in appennino per via della presenza di una pianta di Asclepias frutticosa Si tratta infatti di una pianta originaria dell'Africa del Sud dalla quale si ricava una fibra tessile e che per questo motivo fu portata in Spagna rivelandosi però infestante e la sua eccessiva diffusione sta creando problemi proprio nel parco di Doniana nel quale sono presenti le linci pardine Io fui il primo a riportare la cosa all'interno del mio sito ricevendo consigli poco simpatici da un allora dipendente Ispra Sta di fatto però che avevo ragione io e gli stessi ricercatori del parco di Doniana identificarono senza problemi l'esemplare tramite il pattern della maculatura Si trattava di Dardo un maschio di lince pardina che viveva in perfetto peso forma e totale libertà Cosa dire in conclusione? A mio avviso il fatto che oggi in Appennino non siano presenti linci è fuori da alcun dubbio Ogni giorno tantissimi appassionati lo esplorano in lungo e in largo e sono ormai molte a utilizzare fototrappole per motivi di svago Esistono anche numerosi gruppi in cui vengono caricate fotografie e filmati di ogni tipo ma attualmente a linci siamo ancora a zero Una cosa però va detta l'ipotesi di tassi con il quale sono stato in stretto contatto per tanti anni secondo cui la lince dell'Appennino era diversa da quella eurasiatica un senso ce l'ha Sappiamo infatti dal 2011 che la lince pardina ha vissuto almeno sino al tardo Pleistocene nell'Europa meridionale Italia compresa tanto che di recente un gruppo di studio dell'Università di Barcellona ha proposto di cambiare il nome vernacolare di lince iberica con quello di lince mediterranea accennando anche a eventuali future opportunità di reintroduzione di questa specie lungo la costa settentrionale del Mediterraneo al fine di aumentarne la possibilità di sopravvivenza negli ecosistemi selvatici detto questo credo che gli sforzi per cercare la lince appenninica andrebbero indirizzati verso magazzini di musei e antiche collezioni perché all'eventualità di una sua presenza sino a fine ottocento non è affatto campata per aria e per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto e come al solito vi invito a iscrivervi al canale mettere un like e lasciare un commento se conoscete storie sulla lince fatemelo sapere e se vi va seguitemi anche su Instagram e Telegram ricordo inoltre che è possibile supportare il mio lavoro su Tipeee di cui lascio link in descrizione e scheda per maggiori info per oggi è tutto ciao ah un'ultima cosa brischiolata significa multicolore in dialetto balzerano il mio lavoro6 ti evento